Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Scusate per l'assenza, perché so che voi eravate abituati a vedere più di un video alla settimana, però purtroppo non ho potuto per motivi che adesso non sto qui a spiegarvi. Comunque eccovi a voi con un nuovissimo video. Allora, come avevo già accennato in uno dei video precedenti, avrei appunto fatto un video su cosa penso della quinta generazione. Intanto inizio a dire che secondo me non si tratta della quinta generazione per il semplice fatto che i personaggi sono gli stessi. Stessi doppiatori, stesso praticamente di tutto, cambia soltanto praticamente come sono rappresentati, diciamo. Però per il resto è uguale, quindi direi che si tratta di una generazione 4.5, diciamo così, che secondo me è valida come trampolino di lancio per la quinta generazione. Premetto che questi episodi non è che li ho visti tutti, pure perché comunque pare che questa generazione qua non sia come la vecchia generazione che è facile da trovare ma è complicato, quindi essendo appunto complicato o aspetto veramente che la serie arrivi in Italia oppure non è complicato, però per quel poco che ho visto posso dire che secondo me non è male come hanno rappresentato appunto sia le protagoniste che tutto con l'unica differenza che secondo me non lo so, cioè le protagoniste da adulte mo' sembrano bambine. Può essere pure che l'idea dei produttori era proprio quella di raffigurarle quando erano piccole, pure perché hanno fatto una serie in cui le protagoniste sono grandi, quindi adesso mi fanno un'altra serie in cui mi fa vedere che sono piccole. Infatti mi sembra che le sorelle delle protagoniste non ci sono, o perlomeno se ci sono non ho visto ancora l'episodio, però io non le ho notate più di tanto, perché come ho detto comunque è difficile da trovare, poi comunque non ho avuto tempo e modo di guardare tutto quanto. Quello che posso dire è che come è serie non c'è male, però io sinceramente parlando per quel poco che ho visto aggiungerei magari qualche canzone, come succedeva tipo per la G4, tipo che ne so in un episodio magari ci metti qualche canzone, magari, e secondo me l'episodio dovrebbe durare anche un po' di più, secondo me un singolo episodio dovrebbe durare appunto di più. Posso dire che quel poco che ho visto mi sono crepato da ridere, anche se non capivo niente, perché era tutto in inglese, però mi faceva proprio ridere la situazione. Io so che nel 2021, così è stato detto, avrebbero fatto un film. Non so se questo film sia su questa generazione qua o sulla G5, cioè personaggi nuovi, ambiente nuovo, tutto nuovo, non lo so. Fatto sta che adesso con questa cosa che gira e tutto quanto che hanno bloccato tutto, stanno a ribloccare un'altra volta tutto, perché questa influenza purtroppo, questa pandemia mondiale c'è, esiste, tutto quanto. Io non so se anche il film è stato rimandato magari al 2022, 23, 24, non lo so. Però quello che so è che quando la G4 ancora finiva, avevano detto, era tipo il 2018 mi sembra, 2019 mi sembra, credo. Ed era uscito appunto quest'articolo che diceva che nel 2021 avrebbero fatto un film, che però non equivale al film che hanno fatto nel 2017, quel film là. Cioè non è il seguito, è un altro film, tutto nuovo, però adesso io non lo so più se faranno questo film. Non lo so, cioè secondo me è difficile che lo facciano, visto i blocchi che ci sono per colpa di questa pandemia. Io mi auguro che si risolva più presto, tutto quanto, però vabbè, non voglio parlare di questo, perché altrimenti poi il video perde di significato, quindi ho detto quello che penso. Se questo video vi sia piaciuto, mettete un pollice in su, iscrivetevi al canale e accendete la campanellina così se ci sono dei nuovi video sul canale non ve li perdete. Arrivederci, alla prossima!